Tanto mai tardivo, se non altro, piuttosto incoerente. Passiamo alla seconda storia di questa sera, importante insomma, che vogliamo rappresentarvi e che riguarda Tiziana Cantone. Perché abbiamo deciso di raccontarvi questo ultimo sviluppo? Perché, come vi dicevo in apertura di questa nostra puntata, proprio qualche giorno fa è uscita la notizia che la procura di Napoli Nord ha chiesto l'archiviazione per l'ipotesi di omicidio, ipotesi di omicidio che aveva portato all'apertura di un fascicolo in seguito a un esposto denuncia fatto dalla madre, rappresentato da Maria Teresa Giglio, che conteneva tutta una serie di fantomatici elementi di prova raccolti da altrettanto fantomatico M-Team. Nel frattempo è successo di tutto, perché questo M-Team è stato smascherato dal servizio delle Iene, adesso vi metto in chat il link così se qualcuno di voi è interessato se lo può andare a vedere, che ha dimostrato che dietro questo fantomatico John Peschiera M-Team altro non c'è che il truffatore seriale, peraltro arrestato negli Stati Uniti, ha fatto due anni di carcere per una serie di truffe anche lì abbastanza importanti, legate a una società che vendeva vino e che ha truffato una serie di soci, tal Mirko Zeppellini di Bresso, che ha una lunga storia di truffe datate già da oltre 15 anni sostanzialmente in giro per il mondo e anche in Italia. Fu quello che truffò anche Enzo Iachetti coinvolgendolo in un film colossal denominato Foibe, c'è un articolo anche di Selvaggia Lucarelli che riprende proprio tutta una serie di le false identità di Mirko Zeppellini, che appunto dopo essere stato in carcere in America, sottoposto a perizia psichiatrica, valutato come totalmente infermo di mente per un grave disturbo delirante, disturbo narcisistico e manie di persecuzione, quindi immaginatevi che soggetto che gestisce questo M-Team, anzi è M-Team, M di Mirko fondamentalmente. Lo pseudonimo con cui si manifestava, ossia John Peschiera, fa riferimento a John che è un nome che evidentemente gli piace da quando è bambino perché si è creato tutta una serie di alias già da adolescente in cui appunto si definiva in tanti modi e Peschiera è niente poco di meno che il cognome della madre. Quindi parliamo di un soggetto che ripeto ne ha combinato di tutti i colori e che adesso insomma per quello che riguarda almeno la realtà italiana è stato ben collocato dal punto di vista anche di diverse procure che stanno procedendo nei suoi confronti per reati molto gravi e non solo nei suoi confronti anche di altri soggetti con cui ha agito in concorso per tutta una serie di vicende. Bene, la Giglio con, diciamo, in concomitanza con questo soggetto e con persone ad esso collegate aveva presentato questo esposto denuncia sostenendo che la figlia fosse stata uccisa, che secondo queste prove fantomatiche di M-Team l'avrebbero uccisa delle persone tenenti alle forze di polizia o dei servizi segreti in alternativa, è un po' lo scenario che gli piace un sacco a Zeppellini che l'ha tirato fuori con il caso Vannini, ovviamente anche lì non se li sono filati neanche di pezzo, l'ha tirato fuori col caso Biondo, anche lì non so mai sta dire ovviamente. È un perseguitato dall'istituto. È una sorta di, diciamo, di cliché che usa Zeppellini, ci mette sempre in mezzo qualcuno che chiaramente agisce a nome per conto o della polizia o della procura o dei servizi segreti e uccide, non si capisce bene per quale motivo avrebbero dovuto uccidere Tiziana Cantone, con tutto rispetto, non mi pare che fosse un personaggio che potesse avere un ruolo in determinati... Si collegano sempre ai wifi. Sempre collegate alle famose wifi, ovviamente tutto... E dispositivi informatici. E ovviamente non ha trovato il ben che minimo riscontro, proprio zero su zero. Ebbene, la procura di Napoli Nord, però, ovviamente, arriva una notizia di reato, la procura che fa, deve per forza iscrivere al ruolo la notizia di reato. Siccome era una notizia molto grave, dove addirittura si puntava il dito nei confronti di operatori della procura, sostenendo che addirittura i carabinieri che intervenirono all'epoca avevano manipolato i dispositivi informatici di Tiziana con l'obiettivo di... Era peggio, Roberta, scusami. Ma peggio? Non sul momento, qualche giorno dopo, mentre erano in custodia. Cioè, proprio... Sì, sì, mentre erano già in sequestro. Sì, sì. Una roba gravissima, folle, proprio assolutamente. E che addirittura, questa famosa pashmina, che peraltro non venne sequestrata all'epoca, non è stata sottoposta a catena di custodia, è stata inviata a un biologo su del Nord, che ha fatto questa famosa analisi, anche lì con modalità sicuramente un po' particolari e che addirittura ha fatto un parere medico-legale, pur non essendo un medico-legale, quindi immagino sul solco prodotto dalla pashmina, che chiaramente era un solco perfettamente coerente con l'impiccamento di Tiziana a questo attrezzo ginico. Ebbene, questo si è inventato che secondo lui il solco non era compatibile, ma non era biologo. Peraltro lui stesso, durante il servizio delle Iene, dice sì, ho fatto il suo parere, ma tanto non vale niente perché io non sono un medico-legale, quindi la mia parola in quel settore non conta nulla. Ma abbiamo capito che anche il DNA che ha trovato, insomma, valgono molto, se vogliamo ancora meno, visto che non c'è stata catena di custodia, quindi in qualunque momento, per sua stessa ammissione, quel DNA poteva essersi depositato su quel full-hard che non è mai stato posto in sequestro. Quindi immaginatevi veramente una fiera di imprecisioni, di fantasiose ricostruzioni e quant'altro, tutto cappeggiato da questo Zeppellini, sotto falso nome ovviamente, e alla fine che succede? La procura però dispone di esumazione, dispone di esumazione e dispone di autopsia, che era l'unica cosa che all'epoca non venne disposta, perché il quadro suicidario era talmente univoco. Addirittura, il giorno stesso della morte, Tiziana, nelle ricerche che fa sul suo account online, emerge che sta cercando il cianuro di potassio e sta cercando metodi per uccidersi. Per stessa ammissione della madre di altri testimoni, aveva già alle spalle dei tentativi per grazie di suicidio, anche piuttosto importanti in passato, e in quel momento c'erano tutta una serie di vicissitudini, tutto questo è agli atti, ragazzi, ci sono tutta la documentazione che chiaramente io dispongo e che abbiamo esaminato, ed è tutto riscontrato in maniera inequivocabile. Ebbene, c'è una parte che vorrei proprio comunicarvi, perché ritengo importante, proprio perché la madre che succede, è stata fatta questa richiesta di archiviazione, perché secondo la procura ovviamente non c'è nessun riscontro, dopo anche aver fatto l'autopsia, non c'è nessun riscontro che possa portare in un'ipotesi omicidiaria, e la madre ha fatto opposizione, ha cambiato legali, ha cambiato consulenti, ha cambiato tutto il mondo, però ha fatto opposizione. Ha fatto opposizione sostenendo che vi fosse un segno di un'unghiatura che secondo lei, secondo i suoi consulenti, avrebbe in qualche modo, riscriverebbe sostanzialmente, sarebbe un elemento suscettibile di cambiare la prospettiva sugli eventi. Ebbene, sappiate che, proprio la... Cosa succede? Diziana viveva in questa abitazione, un piano viveva lei con la madre, l'altro piano viveva lo zio paterno con la compagna, e sotto nel seminterrato c'era una cantinetta, ok? Cantinetta con degli attrezzi, con un divano, insomma un ambiente di ritrovo familiare. E c'era appunto questo attrezzo ginico. La zia, che quel giorno lì, allora lei, cosa succede? Lei, il 5 di settembre del 2016, Tiziana riceve la notizia che ha sostanzialmente perso la causa contro una serie di provider per l'eliminazione dei famosi video. La storia la conoscete, i video, se erano sei video che giravano, erano diventati virali, dove lei faceva sesso con altri uomini. Peraltro, tutti i testimoni acquisiti, chiaramente nella vicenda, dimostrano che lei era parte attiva in questi video, che caricava su una serie di siti per scambisti, che erano abitualmente frequentati, sia da lei che dal compagno che aveva all'epoca. Tutte circostanze che sono note, ragazzi, non vi stiamo dicendo nulla di segreto sotto questo aspetto. Però, se andiamo a vedere quello che ci racconta proprio la donna che trova Tiziana quel giorno, perché non la vede arrivare per pranzo, che l'avevano invitata a mangiare qualcosa da loro, sapevano che era molto provata per via del fatto che aveva perso il ricorso, diciamo, in buona parte del ricorso contro Facebook e quant'altro aveva perso, doveva pagare le spese legali a 5-6 provider, ed erano più di 20 mila euro, che lei non aveva. L'ex compagno si era reso disponibile per pagare questa cifra, però lei era arrabbiatissima, scoratissima, delusissima, era veramente in una condizione terribile. E in più occasioni riferisce sia a questo ragazzo, che ad altri interlocutori che ha in quel giorno, l'intenzione di farla finita, di fare veramente qualcosa di eclatante. Ci sono proprio messaggi che vi abbiamo fatto vedere, ce ne sono anche degli altri, poi intanto potete vedere questi, in cui lei chiaramente fa questo tipo di valutazione. E proprio quel suo stesso giorno, pochi momenti prima di morire, farà delle ricerche sul suo account online, proprio su come suicidarsi e su come trovare il cianuro di potassi. In buona sostanza, che cosa dice la compagna dello zio? Che è quella che la trova, non trovandola al piano, diciamo, dove viveva Tiziana con la madre. Alle 16 si comincia a preoccuparsi, perché lei avrebbe dovuto scendere per mangiare qualcosa con loro, fondamentalmente, l'avevano invitata. A quel punto va a cercarla in casa sua, non la trova, e va sotto nella tavernetta, nel seminterrato, per capire se magari era lì. A volte, insomma, lei stava lì per, evidentemente, insomma, per passare il tempo o quant'altro. E la trova appesa all'attrezzo ginnico, che era presente proprio nella tavernetta, con questo foulard che le cingeva al collo. Che cosa fa? Ovviamente rimane sconvolta da questa situazione e slega il foulard, chiaramente movimentandolo dal collo. Quindi la famosa unghiatura, secondo voi, di chi è? Cioè, per poterla levare da lì, è chiaro che ha agito anche energicamente, sta povera donna si è trovata davanti a quella situazione terribile, potete immaginarvi. È chiaro, l'ha tolta lei da lì, lo dice lei, e nello sciogliere il foulard gli è caduta, perché ovviamente, insomma, comunque non è riuscita a trattenerla. Quindi cade a terra, ovviamente, e rimane in quella posizione finché arriva il 118. Purtroppo non c'è più nulla da fare, sostanzialmente. Lo zio, nel frattempo, allertato dalla compagna, chiama il 118, però chiaramente non c'è più nulla da fare, perché ormai è, quando arriva il 118, lei è già deceduta. A quel punto la salma viene messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e viene incaricato il medico legale di fare le sue valutazioni. Farà un'ispezione cadaverica esterna, riterrà la presenza del solco coerente, chiaramente discontinuo nella parte posteriore, coerente con l'impiccamento, non ci sono altri segni di collutazione coerenti con la possibilità di un omicidio e di conseguenza si decide di non disporre l'autopsia, perché l'esame esterno della salma è il quadro generale, comprese le dichiarazioni che renderà la madre stessa di Tiziana nell'immediatezza del fatto sono perfettamente coerenti con uno scenario suicidario, peraltro diciamo sufficientemente solido. Proprio lo stesso giorno, l'analisi poi successiva dei dispositivi cellulari di Tiziana consentirà di dimostrare come la stessa, proprio mediante Google, abbia cercato come trovare un modo efficace per suicidarsi, questa è proprio la stringa di ricerca, e dove posso trovare il cianuro di potassio. Lo stesso giorno, da lì si scatena tutta una serie di valutazioni, viene ricostruita tutta la vicenda naturalmente, perché è giusto che sia così, e a quel punto si scopre che effettivamente la parte medico-legale conferma che il solco è coerente con il segno del foulard, da impiccamento, e naturalmente, ripeto, tutti i dati circostanziali depongono per la sola presenza di Tiziana durante l'impiccamento, e soprattutto depongono per uno scenario suicidario mirato, dove addirittura contestualmente avvengono tutta una serie di ricerche, proprio nello stesso, nello stesso pochi istanti prima di morire, su come suicidarsi. Ora, poi c'è una lunghissima disamina di tutte le conversazioni avvenute tra Tiziana, gli avvocati, soprattutto dal 6 al 13 di settembre, quindi sostanzialmente nei giorni immediatamente successivi, la comunicazione di aver perso sostanzialmente il ricorso contro Facebook e contro tutta una serie di altri provider per l'eliminazione dei famosi video, questi famosi video, che peraltro la stessa Tiziana ammette pacificamente di aver girato volontariamente, perché anche questo elemento emerge chiaro dall'analisi complessiva della vicenda, ossia che lei non fosse stata coartata nel fare quei video, che aveva anche lei, aveva anche lei, cioè la sua partecipazione, evidentemente aveva anche le sue gratificazioni nel farlo, il suo compagno apprezzava di osservarle, riprenderla mentre faceva sesso con altri uomini e lei, questo tipo di attività, stava bene, tant'è vero che proprio le persone sentite che facevano parte anche dei famosi video poi divenuti virali, hanno sempre affermato che lei era perfettamente cosciente di quello che faceva e lo faceva volontariamente senza alcun problema, senza nessuna coartazione e che era una cosa che le piaceva fare, quindi, e peraltro che poi questi video venivano caricati in questi siti di scambisti in maniera assolutamente consapevole da parte di Tiziana e poi veniamo a un punto dolente di questa storia. Anche perché le aveva inviati lei, cioè, le ha inviati lei, peraltro, la prima cosa da dire è che le ha inviati lei. Le ha inviati lei, sono l'invio a queste persone che poi sono state accusate da lei e dal fidanzato, o quantomeno, di aver divulgato questi video. In realtà, queste accusi sono rivelate false, ma false nel senso che erano consapevoli, Tiziana e il compagno, che queste persone erano estranei ai fatti, che non avevano assolutamente divulgato questi video. Ok? Infatti, nel processo che si è appena celebrato e terminato con l'assoluzione del compagno, di ex compagno di Tiziana, in realtà, c'erano tre capi di imputazione. nei primi due, se Tiziana fosse rimasta in vita, sarebbe stata coimputata con lui. Provo perché, poi ve li leggerò, perché c'era una serie di condotte che, secondo la procura, la vedevano parte attiva di questo tipo di situazione, ma non era mai emerso un elemento di coartazione, anche dai video, non so se qualcuno di voi è capitato di vederli, purtroppo sono ancora in circolazione. in uno di questi video, diciamo, quello famoso del meme dove lei dice una frase, insomma, abbastanza che è diventata tristemente nota, è chiaro che lei, insomma, obiettivamente sembra assolutamente consapevole di sé e pienamente presente a se stessa mentre fa sattività, non sembra assolutamente coartata. Morale, a un certo punto lei fa il 12, la sera del 12, che è la sera prima della morte, lei, parlando con l'ex compagno, che gli dice guarda, possiamo fare un'opposizione, un reclamo contro Facebook, Google e gli altri siti proprio con l'obiettivo di cercare di venire a capo della situazione che aveva perso questo famoso ricorso, lei si manifesta molto provata e dice guarda, io faccio una stronzata, giuro, se non mi fanno il reclamo in relazione agli avvocati perché lei aveva firmato un foglio dove si impegnava a non fare il reclamo, quindi aveva un problema proprio con i suoi avvocati in questo, su quello aspetto lì, non ho più nulla da perdere, Sergio, non ce la faccio più, nessuno lo sa, ma sono solo tanto stanca, nessuno sa come mi sento anche ora, mi sembra di dover combattere contro il mondo intero, avverso, è una terribile sensazione, la mia dignità è calpestata, non voglio più nulla, quello che più desideravo non l'ho ottenuto, compreso stare ancora sui siti porno, cioè lei non voleva stare sui siti porno chiaramente, quindi purtroppo ancora ci stava, quello che più mi interessava non me l'hanno concesso, sarò segnata a vita, pensavo di poter fare qualcosa, ma non è stato così, ho perso, quindi è proprio un quadro psicologico di una persona che non vede più via di uscita da quella situazione, che chiaramente mi è sfuggita di mano e che lei non tollera. Perché non c'era? Perché lei era convinta che si potessero togliere questi video, forse questo difetto, diciamo, qualcuno avrebbe dovuto spiegargli ad aiutare a superare questa cosa, perché uno dei problemi, tornando a M Team, uno dei problemi con i quali, cioè loro si sono presentati come i salvatori della patria, come il fatto che potevano rimuovere video, ragazzi, hanno ribattezzato il metodo M che non fa assolutamente nulla di quello che promette. Ma non è possibile. Lo posso mettere per iscritto e addirittura l'avevano ribattezzato il metodo Cantone sbandierando ovunque di aver eliminato in via definitiva i video e ovviamente anche questa è una fandonia. Non è possibile, ma lo spiegarono anche durante le indagini dei consulenti, loro avevano provato, ma non si può togliere questi video. Quello che rimane in rete rimane lì per sempre. Quindi è anche quello che ha animato un po' tutti contro... Anche perché poi è quello che accade, visto che molte persone quei video li avranno salvati perché sono finite in lungo e in live, è accaduto poco fa. Lo scrivo la cultura, è impossibile tracciare tutti gli dispositivi su cui quel materiale ha girato. Per cui può riciclare in qualunque momento, posto che comunque non è possibile cancellarlo in via definitiva. Questo è il problema. E lei lo dice chiaro, voleva la rimozione, quindi... Ma lei non si voleva ottenere, questo è il problema principale. Quindi lei a quel punto capisce che non c'è proprio perso, cioè che purtroppo questa battaglia l'ha persa, si è anche messa in una condizione economica complessa perché lei quei soldi non ce li aveva. De Palo si era reso disponibile ad aiutarla perché chiaramente era una situazione che un po' riguardava naturalmente anche lui, ma questa cosa chiaramente non l'ha... Non l'abbastata. Non l'abbastata. Parliamo di una ragazza che aveva delle fragilità, che aveva già avuto insomma una storia abbastanza segnata da una serie di accadimenti, che aveva comunque delle sue fragilità anche abbastanza importanti, che davanti a una situazione di quel tipo con la sconfitta dal punto di vista giudiziario lei ha visto completamente naufragare qualunque possibilità di sottrarsi sia con l'agonia e lei questa cosa chiaramente non è certa. Scusami, rispondiamo a Francesca? Sì, allora lei aveva questa relazione col fidanzato, questo gioco, una loro intimità sessuale particolare, per cui facevano dei video che in generale dovevano rimanere privati, cioè lei andava con altri uomini, li filmava per farli vedere al fidanzato... Ma in realtà rimanere privati Monica ma neanche... Ma no, no, dovevano. Poi il gioco è andato oltre... Perché l'hanno caricato su dei siti in Pepe Scambista. No, però l'hanno caricato su dei siti... Sì, sì, stavo arrivando a questo. L'hanno caricato loro, cioè lei e lui si, sì, sì. Cercavano per cui avere poi incontri sessuali. Le testimonianze sono chiarissime, ragazzi, ci sono tantissime testimonianze che confermono questa situazione e lei era parte attiva in questo, tant'è vero che molti contatti li prendeva lei con i potenziali amanti perché il gioco qual era? Che lei facesse sesso con altri uomini, anche più di uno. Esatto. Semporaneamente Di Palo la riprendeva e poi si guardava i video perché lui era eccitato da questa cosa. Ci sono persone, ragazzi, che hanno quel tipo di situazione. Finché rimaniamo nel consenso tra tutte le parti, tra adulti, è una cosa che assolutamente non ha un rilievo penale. Ci possono essere gli aspetti parafili, ci possiamo discutere di questo, ma fino dal punto di vista giudiziario non è rilevante. Cioè, se sono persone che lo fanno volontariamente e lei lo faceva volontariamente, anzi, era pienamente dentro questo tipo di condizione. Lo dice chiaramente chiunque l'ha avuto a che fare con lei in questo tipo di situazione. Il problema è che... E' uno dei testimoni principali di questa storia, che era uno dei, diciamo, dei soggetti coinvolti in questo tipo di giochi. Anche se poi cosa era successo? Cioè, in pratica, lei si era trovata alla fine tra due fuochi, così si vuol dire, perché comunque poi la madre era venuta a sapere di tutto questo retroscena che la riguardava. Quindi, lei non poteva più viversi, tra virgolette, la relazione col compagno in una maniera serena. Quindi, durante un certo periodo sono rimasti divisi. Quindi immaginate... Ma l'hanno riconosciuta. Il problema è questo. Questi siti, e lo diciamo pure per conoscenza, perché poi molte ragazze sono convinte che ormai è stato sdoganata questa cosa, questi siti che ti danno la sicurezza, tra virgolette, che i contenuti rimangono sulla piattaforma, la sicurezza non c'è. Perché, in verità, basta filmare a schermo se sei registrato e prendi il video. Il problema di Tiziana qual è stato? Che è stata riconosciuta. Quindi è stato messo in circolazione questo video che lei aveva caricato in anonimo su un sito e cominciato a circolare sui cellulari e sui YouTube o altri siti porno con il suo nome e cognome. Quindi l'hanno riconosciuta e hanno cominciato a schernirla, prenderla in giro, fare le poste sui social. Offenderla per strada. Offenderla. Quindi è stato quello il problema. Perché poi non l'ha potuto più tenere nascosto. Ma è attuale. Se Tiziana fosse rimasta in vita, lei, al processo col Di Palo, sarebbe stata coinputata su due di tre capi di imputazione. Vi leggo i primi due dove anche Tiziana sarebbe stata imputata. Perché agendo in concorso con lui, perché è stato assolto, questo era il capo di imputazione del processo, istigando e inducendo la stessa, cioè la Tiziana, a dichiarare mendacemente, cioè in maniera chiaramente falsa, con denuncia presentata alla Polizia Postale di Napoli il 29 aprile 2015 di aver smarrito il loro iPhone, apparecchio dove erano stati registrati un elevato numero di video e fotografie a contenuto pornografico. Il tutto al fine di occultare la precedente volontaria diffusione da parte della coppia di video sul sito scambista lamogliofferta.com di dimostrare falsamente che alcuni di tali video fossero stati illicitamente diffusi dai gnoti e così indurre la Polizia Postale a svolgere le relative indagini e attestava falsamente al pubblico ufficiale fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità e contestualmente simulava il delitto di furto da parte di gnoti. Questo è il primo e il capo A. Il capo B dove sempre era coimputata anche Tiziana ripeto il dipalo è stato assolto da tutti i capi di imputazione anche dal terzo che riguardava solo lui il secondo era questo perché agendo in concorso con Tiziana Cantone successivamente deceduta istigando e inducendo la stessa a presentare querela nei confronti di Iacuzio di una serie di persone che erano quelle accusate falsamente da Tiziana e da quest'altra persona in base a quello che la procura aveva scritto di aver divulgato i video famosi quelli divenuti virali in realtà queste persone sono totalmente strane i fatti accusandoli di essere i responsabili della divulgazione diretta o indiretta nel web con caricamento su siti tematici di un numero non specificato di video pornografici riproducenti Cantone e Tiziana e i suoi partners video in realtà oggetto di precedente diffusione da parte della coppia quindi di Tiziana e di Sergio sul sito scambista lamoglioferta.com tacendo intenzionalmente ogni circostanza atta a dimostrare la loro evidente irresponsabilità cioè loro lo sapevano che questi non c'entravano niente niente erano totalmente strani i fatti e li hanno messi in mezzo lo stesso nonché inducendo gli stessi a eliminare ogni documentazione per loro utile per dimostrare che in realtà erano strani i fatti quindi in qualche modo manipolandoli sapendoli innocenti li incolpavano dei delitti di difamazione diffusione e trattamento illecito di dati sensibili quindi questo cosa ti dice ti dice quello che sostanzialmente ha sempre confermato la procura che Tiziana nella diffusione di questi video sul sito in particolare lamoglioferta.com era pienamente consapevole e era un'attività che faceva volontariamente insieme all'altro perché era un modo per poi alimentare il ciclo degli incontri con altri soggetti quindi che chiaramente erano interessati a avere rapporti con lei e quindi si prestavano a questo tipo di attività lo dice anche uno dei testimoni cioè io ero interessato a fare sesso con Tiziana quindi mi prestavo a questo tipo di giochi perché sono eterosessuale e a me piaceva fare sesso con lei il contesto era un contesto che era chiaramente piaceva anche a lei di conseguenza io e per carità a Fili va tutto bene il problema grosso è che poi questo tipo di contenuti sono sfuggiti di mano come spesso accade in queste vicende ma non c'è diciamo lei rimane vittima di questa parte non è stata manipolata per portarla a produrre questi video perché tutti quelli che la descrivono in queste attività la descrivono come parte attiva consapevole e che anzi era estremamente interessata a portare avanti questa attività tutte le testimonianze vanno in quella direzione ma anche i contenuti poi trovati sui suoi dispositivi vanno in quella direzione cioè non è un'attività che è stata costretta a fare come qualcuno ha cercato di far credere quella parte lì lei l'ha fatta in maniera assolutamente volontaria e per carità è più che legittimo se uno piace fare sesso così è d'accordo col partner nulla a question il problema grosso è stata poi la divulgazione oltre quello che chiaramente era nei suoi intenti perché ovviamente poi si è sentita addosso il peso di un giudizio sociale spaventoso che ovviamente l'ha devastata però è chiaramente uno scenario di tipo suicidario cioè obiettivamente ipotizzare qualcosa di diverso nel caso Cantone è davvero totalmente irrealistico perché nessuno aveva motivo di uccidere questa ragazza nessuno nessuno e purtroppo aveva una condizione lei che era veramente purtroppo estremamente propensa a ideazioni anticonservative lei cerca lo stesso giorno come ammazzarsi ma lo dichiara proprio lo dice lo dice qua sono 24 ore prima manco cioè lei lo dice proprio che lo farà perché mettiamoci nei panni di questa ragazza che si è allontanata anche da casa tantissimi chilometri andata in un'altra nazione torna lì i video la seguono non reggeva più questo peso poi oltre il danno anche la beffa perché non solo c'era la vergogna per questa cosa perché aveva capito la gravità il fatto che la sua vita era ormai marchiata per sempre ma anche il fatto di dover pagare delle spese per la rimozione per oscurare i link di ricerca perché in pratica il motore di ricerca cosa fa basta inserire il nome anche il cantone per dire il cantone svizzero è impossibile eliminare perché tutti i siti possono riportare proprio sui video che aveva fatto e non era solamente il famoso video che è diventato virale ma ben altri erano tutti quanti venuti fuori quindi era impossibile oscurare tutti i video che erano venuti fuori quindi non ha retto più diciamo che il quadro delineato è questo fondamentalmente io sfido veramente chiunque a reggere il peso che ha retto tra stati all'epoca dei fatti con una situazione del genere con la madre stessa che conferma che lei aveva già avuto dei tentativi di suicidio precedenti con una serie di testimonianze che vanno in quella direzione con tutti quelli con cui lei parla in quei giorni limitrofi alla morte che chiaramente la dipingono comunque in una condizione di grave angoscia di grave alterazione di grave preoccupazione i segni sul corpo sono coerenti con l'impicamento è normale che non venga disposta l'autopsia ragazzi non è che l'autopsia viene fatta in tutti i casi di decesso se ci sia un decesso in cui la situazione depone chiaramente per un suicidio in maniera plateale non c'è bisogno di sempre fare l'autopsia c'è stata una ricognizione esterna la salma non riportava segni incoerenti rispetto a quello che era lo scenario suicidario la zia comunque si era adoperata poverina per tirarla giù di lì a modo suo quindi è anche possibile che nell'interagire con la salma abbia anche la famosa unghiatura cioè ragazzi ma che un'unghiatura è compatibile con un omicidio ma stiamo scherzando veramente in un contesto di questo tipo poi per l'assurdo dopo l'autopsia è stata fatta e hanno quindi dichiarato che la morte è sopraggiunta per asfissia meccanica compatibile con l'impeccagione però proprio lì poi hanno insistito ancora di più con questa teoria dell'omicidio ma ragazzi detto fuori redente qualunque non le fanno a credere è stato fatto il lavaggio da M team perché ha cominciato a mettere fuori delle cose assurde però ragazzi inizialmente non si era partito da questo si era partita da istigazione a suicidio cioè la madre di Tiziana addossava la colpa a te guarda che la PM l'ha affrontato il tema dell'istigazione anche lì non c'è nessuna condotta di Di Palo coerente con quello che prevede il reato di istigazione anzi Di Palo a modo suo cerca anche di rassicurarle e dice non ti preoccupare i soldi ce li metto io ti do una mano io cioè a modo suo è vero che lui è l'ultima persona con cui lei parla c'è una chiamata quel giorno al telefono dove loro due parlano per 22 minuti peraltro sono stati valutati anche i tabulati perché insomma una delle fantasie riguardava che addirittura fosse Di Palo lì dentro con lei sì perché la mamma ce l'ha con lui c'è un post che ho preso l'altro giorno dalla pagina sua che mi ha sconvolto veramente dalla pagina Tiziana e le altre su Facebook veramente tu dici ma la pagina si chiama Tiziana e le altre c'è un post dove non so chi gestisca la pagina immagino io la Gibio credo insomma dove ne scrive tutti i colori vi leggo il post perché è quello che è dell'8 dicembre 2018 e scrive praticamente brutto bastardo calugnatore te ne approfitti perché ora Tiziana è sotto terra è una pagina pubblica ragazzi per cui non sto facendo niente di particolare e non può più difendersi e replicare le tue vili menzogne continuando a dimostrare anche di fronte alla morte il tuo essere spreggevole ma ci sono io ti farò rimangiare tutte le tue menzogne guarda caso dichiari che il cellulare è stato distrutto grave dichiarazione famoso cellulare di cui avete letto nel capo di imputazione c'era scritto che avevano simulato il furto in realtà non si capisce bene che il film abbia fatto il suo cellulare lei scrive ti contraddici te ne dimentichi ma a me torna comodo anche per dimostrare a chi ancora non ti conosce e chi realmente si nasconde dietro alle fattezze umane Tiziana faceva sesso come tutti in modo normale il video i video gliele hai fatti fare solo tu in realtà questo non trova riscontro negli atti non ti permetto di continuare a impangare tienilo ben presente dovrebbe essere l'ultima cosa che farò dovresti essere l'ultima cosa che farò questa è una parte molto grave delle tue dichiarazioni dove dice perché lui lei apre le virgolette dice su questo telefono sono stati registrati circa 70-80 video 10 fatti nel periodo del nostro gioco altri 60-70 nel periodo prima che la conoscessi cioè secondo la Giglio Di Paolo avrebbe dichiarato questo lo ha virgolettato quindi immagino che lei da qualche parte sta roba l'abbia presa e addirittura attribuendo a Tiziana questo tipo di attività quindi legata a questi video erotici anche in un periodo precedente al rapporto con Di Paolo la Giglio dice che questo non è vero quindi insomma gliene dice sostanzialmente di tutti i colori c'è da dire che le Iene stai finendo il messaggio? no no va bene lo leggo tutto perché c'è da dire che alle Iene la prima volta che la mamma di Tiziana si presentò alle Iene fece un servizio in cui si parlava appunto di quello che aveva subito Tiziana anche poi alla fine la causa che l'ha portata a questo è proprio lo stigma sociale che è venuto dietro e quindi c'è una puntata interessante dove tra l'altro Roberta Ray andò a recuperare Di Paolo che gli concesso un'intervista in auto che fu straziante perché questo ragazzo dico ma a me non sembrava fingesse era veramente disperato per quello che era successo perché comunque lui e Tiziana voleva bene avevano avuto una relazione avevano pure convissuto poi questo quello che è successo che gli è piombato addosso le ali ha allontanati però quello che volevo dire io poco fa è che oggi noi parliamo ancora di Tiziana ma Tiziana voleva sparire aveva chiesto di cambiare il nome aveva fatto richiesto il diritto all'obblio quindi lei non voleva che se ne parlasse non ha mai rinnegato il suo gioco la sua relazione i video ha solo cercato di omettere le circostanze in cui sono venute fuori e li voleva solo fermare ma non ha mai rinnegato parlato male di Di Paolo detto che qualcuno l'aveva costretta assolutamente no quindi oggi dire che è stata costretta non era lei è un modo per infangare la sua persona perché non c'è nella sua nel come viveva la sua sessualità non c'è assolutamente niente di male probabilmente sarà stata ingenua ha usato delle cose che forse doveva pensarci un attimo ma non su quello che ha fatto ma il fatto che li ha condivisi in rete però fino a quel punto lì erano assolutamente fatti suoi e del suo compagno era un gioco erotico finito male esatto come tantissimi le fanno proprio la situazione certo però ripeto il suo desiderio e lo dice proprio chiaramente le sue ultime parole sono proprio quella di desiderio di sparire a certe situazioni che non si parlasse più di questa parte della sua vita che non fosse più in qualche modo esposta all'agonia mediatica e invece tutta sta storia l'ha di nuovo rimessa pesantemente su quello stesso tipo di piattaforme fondamentalmente quindi in questo senso è giusto raccontarla anche in questa prospettiva cioè questa è una ragazza che viveva la sessualità in questo modo in maniera assolutamente ripeto più che lecita ognuno di noi può avere queste situazioni lei lo viveva così il sesso lo viveva liberamente tutti la descrivono come assolutamente parte attiva in questo tipo di giochi erotici di fantasie erotiche di aspetti comunque particolari trasgressivi e fin lì nulla a questo il problema nasce quando questo tipo di contenuti come purtroppo accade sempre non riesce più a controllarlo perché oltre al sito dove lei lo aveva pubblicato insieme al compagno volontariamente assolutamente lecitamente in realtà poi da lì la questione è arrivata in ben altri luoghi e ha cominciato a diventare virale questa è la parte della storia cioè anche di parlare di event porn con la Cantone c'entra poco se voi leggete il testo del 612 ter del reato diciamo di revenge porn non ha niente a che vedere questa storia perché non è qualcuno che deliberatamente per danneggiarla divulga questi video purtroppo questi video sono diventati virali perché il meccanismo di diffusione non è controllabile ma non perché ci fosse una volontà specifica di danneggiare lei purtroppo lei è diventata una serie di cose che sono state chiaramente rischiose sotto questo aspetto la gente ci rideva utilizzava la famosa frase di vita hanno fatto dei gadget delle magliette non facciamo fatica a crederlo ci mancherebbe altro terribile terribile secondo me non puoi uscire neanche di casa tutti quanti ti diridono ti senti sempre quella stessa frase lì cioè comunque mi metto nei panni di questa ragazza è una cosa ingessibile a un certo punto soprattutto se hai delle fragilità tue magari qualcuno un po' più sfrontato se ne fregava diceva sì vabbè qualcuno magari oggi ci farebbe sui soldi perché diventerebbe una star del web però non era proprio nel periodo né il caso l'esperio non ce l'aveva cioè lei va bene viversi con la sua condizione con i suoi interessi con la sua sessualità in questo modo ma rimanendo all'interno di certi perimetri non oltre Patrizia Caselli la legge sul diritto all'obbligo è soltanto una cosa che noi abbiamo in Italia col garante della privacy che tu in qualunque momento puoi chiedere alla cancellazione dei tuoi dati ma il problema qui con lei non c'entrava nulla perché questi video non è che venivano pubblicati su YouTube o su Google tutti questi video tutti questi contenuti hot che vengono rubati alle ragazze su OnlyFan su tutti i siti finiscono ripubblicati su siti esteri che hanno i server in Russia in Polonia ma chi ci deve andare a discutere quelle cose che raccontava M.T.M. sono solo bugie per dirla in maniera educata perché è chiaro che se una tua immagine che non per forza deve essere hot può essere un'immagine trafugata viene messa su un sito appoggiato su server che stanno negli Stati Uniti comunque su Google o quello che vuoi basta fare una procedura semplicissima online senza bisogno di affidarti a nessuno e poi richiedere la rimozione attraverso Google dei contenuti quantomeno dei contenuti che vengono indicizzati ma quando parliamo di porno non stanno mica su server in Francia in Spagna in Stati Uniti parliamo di hacker che fanno girare tutti questi contenuti su server che sono intestati a nessuno quindi bisogna fare molta attenzione cioè togliere una foto dal web è fondamentalmente impossibile quando dicono che hanno rimesso sono rispuntati i video di Tiziana Cantone non è che sono rispuntati non sono mai spariti semplicemente qualcuno sa come andarli a cercare e ogni tanto per comodo fa la soffiata al giornalista e dice ah guarda c'è di nuovo il video di Tiziana perché è molto strumentale è tutto strumentale devi andarli a cercare perché alcuni video erano camuffati perché alcuni erano stati tra virgolette un po' ridicolizzati quindi mettevano dei fotomontaggi quindi c'era il succo di frutta piuttosto che le patatine quindi non veniva neanche indicizzato come film porno come video porno che quindi tu fai che ne so la segnalazione per contenuto pornografico e viene rimosso non c'era nulla di tutto ciò quindi anche su YouTube circolavano quindi l'audio e quant'altro la faccia restava riconoscibile era un incubo allora io vi spiego che inizialmente avevo provato a segnalare ma dozzine di pagine anche su Facebook e su Telegram dove girava la qualunque era una lotta contro i mulini a vento cioè non se ne potevano più sbucava una pagina ogni quarto d'ora di persone che creavano addirittura profili dic che c'è un incubo quindi cosa ci vuole a credere che questa ragazza non abbia più retto una situazione del genere? No ma se lo dice proprio cioè lei lei è la principale testimone della sua condizione mentale perché lei cerca come ammazzarsi e pochi istanti dopo lo fa il giorno prima lo dice stavolta faccio una cazzata in passato recente lo aveva già fatto aveva già tentato due volte di uccidersi anche in maniera abbastanza determinata il quadro psicologico è assolutamente coerente con il suicidio la parte medico-legale è coerente non ci sono elementi che portano ad altro ok? quindi questa ragazza si è uccisa e secondo me va rispettata la dignità del suo modo che ha scelto di morire per sottrarsi a questo bisogna interrogarci su come mai una ragazza splendida che poteva avere una vita assolutamente normale sia dovuta morire come unica via di uscita da quell'agonia mediatica da cui evidentemente non riusciva più intravedere alcun tipo di spiraglio questo dovremmo eventualmente portare all'attenzione ma finirla di cercare un assassino che non esiste perché un assassino qui non c'è non c'è mai stato non esiste nessun assassino e non può essere ancora lei messa in mezzo per attirare attenzione attirare in qualche modo consulenza o attirare incarichi ovviamente ormai quel giochino è finito per fortuna perché ormai sto M Team hanno capito tutti quantomeno in larga parte che parliamo chiaramente di soggetti insomma quantomeno questo Zeppellino è un delinquente poi fine della storia insomma un truffatore seriale che si accompagna chiaramente a soggetti che ne assecondano i piani criminali perché di questo è chiunque si siano alcuni sono spariti misteriosamente nelle nebbie ma credo che su qualcun altro lo rivedremo presto in un'aula di giustizia insomma questo poi peraltro è nascosto in rintanato in qualche fogna negli Stati Uniti quindi figuriamoci insomma ovviamente da illegale con documenti falsi insomma poi quelli che sono qua in Italia invece avranno sicuramente dei momenti alcuni l'hanno già avuti dei momenti molto brutti ma i peggiori devono ancora vivare quello posso assicurare dal punto di sa giudiziario naturalmente però ripeto cioè basta basta usare questa ragazza per veicolare pubblicità o quant'altro questa è una ragazza che ha bisogno di essere lasciata in pace ha scelto di morire purtroppo perché era l'unica via d'uscita che ha saputo intravedere in un momento di grande difficoltà finiamola di inventarci omicidi che non esistono incontrare gente a bambera perché veramente adesso basta adesso basta non c'è nessuna neanche istigazione al suicidio perché non c'è nessuna condotta che l'ha spinta purtroppo era tutta roba sua tutta farina del suo sacco è tutta parte delle sue fragilità e purtroppo dell'incapacità in quel momento di proiettarsi in una situazione diversa e chiaramente più affrontabile ma non c'è nient'altro ripeto non esiste nessun assassino di Tiziana Cantone era la situazione vi racconto anche un'altra cosa non pensate che Tiziana sia l'unica che abbia avuto di svolti su questa vicenda che Emilio non era da sola e altri soggetti altri ragazzi sono stati identificati non se la sono passata bene io ero a Napoli in quel periodo non entro nei dettagli del merito però vi dico che anche chi era in quei video è stato riconosciuto il nome è andato in giro per strada non usciva più quindi immaginate già questo fatto che magari c'era la distinzione per una donna e una vergogna invece per il maschio alfa che si trovava nel video in quelle condizioni poteva essere un vanto non lo era non lo era era un incubo anche per un ragazzo essere aditato con una cosa del genere cioè quindi immaginate lei è arrivata proprio all'estremo non ce l'ha fatta più ma gli altri non se la sono passata bene quindi è una di quelle condizioni dove non c'è un assassino ragazzi non c'è un motivo che spinge qualcuno ad uccidere cioè cosa avrebbe fatto questa Tiziana però sai cosa Giovanni secondo me il messaggio che deve passare perché allora Tiziana realmente ha vissuto tutto questo guarda M Team al momento diciamo diciamo che ha già pagato saranno grandi novità nel 2023 diciamo molto diciamo che hanno già il conto ha cominciato ad essere presentato ecco poi saremo più precisi quando avremo diciamo maggiori informazioni sul punto però posso già dirti che per quanto che riguarda la denuncia che ho fatto io presso la procura di Roma c'è già un 415 bis emesso a loro carico e perché sono due persone indicate nel 415 bis compreso Teppellini e e c'è anche già una richiesta di pensazione di udienza preliminare quindi lì siamo abbastanza vicini insomma e adesso aspettiamo che Napoli Nord faccia i suoi passi che sicuramente farà tra l'altro non ha più i casi con cui si è affacciato nel paranorama della cronaca italiana sono caduti si sono sciolti al sole e su questo nessuno commenta però adesso stanno gridando allo scandalo perché la magistratura è corrotta e quindi lasciamo sono io che li corromperemo il delirio di questo gruppo veramente ormai di gruppetto veramente di poveracci fondamentalmente stalker ormai per i e propri mi confronto di direttore sarei io che manipolerei la magistratura e sarei io alla base di tutti i fallimenti clamorosi che hanno contraddistinto tutti i loro casi dall'inizio alla fine perché non c'è ne mezzo che aveva portato un risultato però secondo me sarei io che con la mia manella riuscirei in qualche modo a manifestare in qualche modo a alterare l'esito dei vari procedimenti anche su procedimenti in cui non c'entra assolutamente niente ad insabbiare ed è l'unica il termino ad insabbiare ricordiamoci che il buon Zeppellini è stato ricoverato ritenuto incapace intente di volere per manie di persecuzione disturbo delirante e via discorrendo quindi la follia insomma non è difficile poi ricondurre le farneticanti affermazioni al loro diciamo legittimo proprietario perché chiaramente parliamo di un soggetto profondamente squilibrato che io non vedo l'ora mi denunci io non vedo l'ora che mi denunci non è arrivato non è mai successo perché perché denunciandomi vorrebbe dire rappresentare dove sta dare un indirizzo con una localizzazione precisa non vediamo veramente l'ora che avvenga quel giorno io non guardate glielo ho detto di tutti i colori ovviamente tutte circostanze acclarate ma non c'è verso di avere una denuncia da quei su Zeppellini è una cosa incredibile non c'è verso eppure credetemi perché peggio di quello che glielo ho detto in questi anni qua diventa difficile lo denuncia adesso un 415 bis per truffa aggravata c'è tutta una serie di problematiche ma lui non mi denuncia mai no ma lui fa le denunce per interposta persona no la denuncia per interposta persona che è un'altra roba delirante da cui qualcuno si presta circonda di gente del suo livello fondamentalmente ma non lui ti denuncia sei tu che non sei informata solo che le denuncia il tuo carico finiscono solo al PM che scegli tu perché sei l'unica in Italia che si può scegliere il PM e quindi le denunce due non vanno mai a buon fine mi piacerebbe per potere ma purtroppo ragazzi non ce l'ho non ce l'ho come loro sono gli unici al mondo a riprendere col satellitare gli omicini ce l'hanno dichiarato nero su bianco di avere uno strumento dove vengono fotografate in tutti i momenti le zone del mondo quindi loro in qualsiasi momento possono tirare fuori dal cilino la fotografia dell'omicidio quindi se tu glielo chiedi si svegliano tutti i sudati si accorgono che era un incubo fondamentalmente ma anche se vi rubano la macchina ma come si fa? parliamo di uno Mirko Zeppellini ripeto valutato in America dal dottor Sarazen come psichiatrico grave cioè un soggetto malato di mente psicotico con disturbi deliranti con manie di persecuzione con megalomania cioè fuori come un balcone per essere proprio più chiari non usando un termine tecnico di che cosa stiamo parlando? il problema è sono quelli quei quattro gatti spelacchiati che li vanno dietro che possono ritenere verosimile delle puttanate di questo livello questo è il vero il vero mistero che qualcuno davvero ci possa credere che davvero è non plus ultra dell'idiosia che lui sia matto e che dica delle puttanate del genere è psichiatrico grave ce l'ha detto uno psichiatra americano e quant'altro ma che qualcuno gli vada dietro e che alcuni studi legali gli siano andati dietro quella è la parte più grave ragazzi che poi voglio dire questa persona per ora da quel che ho capito non mette mai la faccia allora io mi chiedo si è libero come si fa a fidarsi è libero ovviamente non ci mette mai la faccia c'è la famiglia 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 poi ne pagheranno le conseguenze sine die vite devastate contenti loro peggio per loro tanto ripeto ormai al dunque ci siamo arrivati lui è libero clandestino negli Stati Uniti chissà quanti identità avrà noi ne abbiamo tracciate almeno una quindicina almeno una quindicina però non è difficile perché usa sempre lo stesso nome John Jonathan John Jonathan questi sono un po' c'era quell'ebrei Bellamy perché c'era quegli ebrei ha raccontato pure di essere di origine ebraica anche questa è un'altra puttanata ovviamente è un soggetto psichiatrico grave un truffatore seriale un mitomani una persona disturbatissima insomma ed è pericoloso ha bisogno di rappresentarsi come un eroe senza macchie senza paura in realtà è un delinquente da dell'ultima spiaggia uno sciacallo un parassita che sfrutta adesso addirittura insomma la fragilità e l'angoscia di famiglie che chiaramente hanno perso un congiunto spesso e volentieri per suicidio e lui gli fa credere che invece gli dimostrerà che si tratta di un ucidio è chiaro che un genitore ad affrontare il suicidio di un figlio fa un'enorme fatica perché è uno scenario terribile che neanche riesce a contemplare un genitore quindi figuriamoci che arriva questo citrullo che parla un scangerato italiano americano che gli racconta il puttanate che c'ha il satellite che c'ha il wifi che c'ha il GPS di tutta la santa incoronata in croce e che ti dice non ti preoccupare dimostreremo che tuo figlio è stato ammazzato figuriamoci servizi che si fanno pagare profumatamente nonostante poi vanno dicendo che è tutto però ad ora nessuno dei suoi casi guarda caso è stato poi aperto c'è tutti quanti chiusi morti su lui che fa che fa gli screenshot alla timeline e lo fa passare per la consulenza tecnica ma che ci può cascare peggio di quella guarda che il successo della Cantone è una roba veramente noi ce l'abbiamo tutta sta roba per cui parliamo per condizioni di causa è veramente delirante cioè ma uno che non ha proprio neanche un'idea di cosa sia una consulenza tecnica ci può cascare perché è veramente una roba imbarazzante è chiaramente uno che non ci capisce niente di informatica ma niente volete sapere che cosa ha fatto ha scambiato la cronologia per i preferiti ma sì c'è la cronologia per i preferiti ragazzi è l'ABC ma manca l'ABC perché all'ABC non ci arriviamo dai di che parliamo cioè ci può cascare la famiglia purtroppo di persone perbene ma limitate nel senso che ovviamente distrutte dal dolore senza nessuna competenza forense adesso non è mica obbligatorio essere degli esperti forense nella vita ci mancherebbe che chiaramente si fanno abbindolare perché questo poi ti abbotta dei chiacchiere ti chiama 8000 volte al giorno a tutte le ore del giorno e della notte cioè non ti molla più e alcuni ci sono cascati ormai praticamente più nessuno perché mi risulta che non ci sia più niente praticamente ormai in piedi tutti i casi che avevano i pochi casi che avevano si sono tutti ormai conclusi in maniera peraltro decisamente poco fruttuosa non poteva mancare Bibo naturalmente che vi fa gli auguri di Natale però la situazione è quella lì e oggi quantomeno almeno la procura di Napoli Nord ha questo scempio su questa povera ragazza questo sciacallaggio ignobile nel tentativo di accreditarsi come maxi mega consulenti del nulla almeno stavolta la procura di Napoli Nord ha messo un punto e ora vediamo come procede il resto ma il grosso delle puttanate sono proprio quelle che ha scritto lui è lui è sempre Zeppellini che ha costruito intorno a Cristiana tutta questa manfrina di balle colossali con l'obiettivo di andare su tutti i giornali a far credere che lui aveva dimostrato che Tiziana fosse stata uccisa ma poi il problema è quello che lui manipola le persone che fanno queste accuse denunce gravi che poi pagheranno perché lui sta lì io non so a chiusura di questa indagine come finirà per la mamma di Tiziana così come la madre di Tiziana cantone diciamo che nei nostri confronti non si è comportata bene e quindi noi abbiamo proceduto contro le denunce no no ma parlo proprio con la procura cioè per la politica e poi la procura vedremo ma c'è un altro caso agghiacciante che è quello di Lorenzo Casini cioè loro hanno convinto la madre di questo ragazzo a denunciare gli amici per omissione di soccorso che non esiste cioè lei non è che ha fatto una denuncia contro i gnoti lei è andata a denunciare tre poveri ragazzi che probabilmente moralmente non avranno agito come si non lo so per un reato che non esiste non c'è reato cioè questa è una contro denuncia per calunnia e lei pagherà mentre lui se ne sta lì e gli dà i consigli della lui è anche l'avvocato qui che l'ha seguita cioè ragazzi è delirante andare a denunciare io sono a casa mia sono a casa mia qualcuno mi dice sto male vieni io non ci vado quello si ammazza e io faccio l'omissione di soccorso stiamo fuori cioè ma veramente e la signora va ogni giorno in piazza a piantonarsi per avere giustizia sul figlio che si è ucciso e persegui tra i ragazzi di vent'anni li ha anche denunciati cioè non scherziamo qui ripeto lui fa le cose e convince le cose mi serve per cercare disperatamente di stare sui giornali dopo quello che abbiamo fatto insieme alle Iene con questa inchiesta che abbiamo fatto e anche insieme a Sebagio Lucarelli chiaramente io ho trovato la sua reale identità quindi a me mi odia a morte e mi odierà per tutta la vita perché ho avuto il giocattolo perché al fantomatico super investigatore d'estaminchia scusate la franchezza del francese insomma ho associato la faccia del maxi truffatore Mirko Zeppellini chiaramente questa cosa lui che pensava di riuscire a non far emergere la sua reale identità chiaramente è diventata una cosa per lui superabile quindi io sono il nemico pubblico numero uno tanto è vero che sono il centro il capo complotto di tutte le sue deliranti fantasie persecutorie ormai ovunque sono sempre di mezzo io in qualunque situazione e questo fa parte della sua patologia psichiatrica ma indubbiamente ripeto cioè lui comunque è un soggetto che è irreperibile tanto è vero che nel 415 bis che lo riguarda qui in diciamo col capo di imputazione per truffa in concorso e lui c'è un decreto di reperibilità il processo si farà lo stesso c'è un avvocato di ufficio che è stato nominato lui liberissimo di non presentarsi e peggio per lui perché chiaramente non potrà difendersi e di conseguenza c'è l'avvocato di ufficio che farà il suo con quello che potrà fare perché se non ha contatti col cliente chiaramente non è che puoi far granché e noi ci faremo comunque il nostro processo lui comunque arriveremo poi alla fine del suo processo in caso di condanna lui se dovesse mai un giorno essere beccato in America rimandato in Italia arrivederci grazie perché in America comunque è un soggetto illegale può succedere qualunque problema prima o poi nella vita ce l'hai un problema ti va sempre bene tutto un incidente stradale una malattia prima o poi ci dovrebbe essere un ospedale ma ha provato di tutto in America ragazzi i vini ancora succederà voglio dire la fortuna non è che ti assiste per sempre ha aperto e chiuso società ha truffato soldi a chiunque anche lì e si nasconde da qualche parte penso abbia anche un figlio che non si è più capito che figlio abbia fatto no no perché abbia una figlia qui in Italia in Italia insomma che sta che sta ma il problema a Patrizia sai qual è che magari lui rimarrà lì ma quelli che gli stanno dando gli hanno dato credito e sono rimasti qui prima o poi vedranno i loro nomi sui giornali vedrete i loro nomi sui giornali e sarà finita del tutto e pagheranno loro la pagheranno loro per tutti poi diranno ah ma noi ci siamo fidati ma veramente mi interessa fino a un certo punto a me interessava intanto smontare il giochino per evitare che passi altra gente perché è una forma di sciacallaggio della più ignobile che si possa immaginare perché lucrare sulla sofferenza sull'angoscia sulla disperazione della gente sia credo veramente una vera roba e quindi già questo diciamo obiettivo raggiunto dopodiché lui continua a muoversi insomma in una serie di situazioni abbastanza ormai di piccolo cabotaggio le procure interessate dall'inchiesta hanno capito insomma benissimo di che parliamo quindi siamo assolutamente certi hanno fatto un ottimo lavoro e a breve sicuramente ne vedremo i risultati dopodiché ripeto che lui rimanga negli Stati Uniti da soggetti irreperibili io questo non lo so se ci sarà mai un mandato di arresto non ho idea su quello ripeto poi valuteranno le procure in base a quello che sarà poi la situazione indubbiamente però ripeto quelli che stanno qua stanno qua e questi non scappano eh beh qualcuno dovrà anche tornare un sacco di persone sì purtroppo sì eh beh ce n'è parecchi di soggetti che ripeto e poi cioè rimanere in America se sei organizzato bene ma se non sei tanto organizzato guarda che rimanere in America dai legale non è proprio una passeggiata di salute ragazzi assolutamente non è una bella vita non sapere di non potersi presentare in un aeroporto perché ti arrestano no non è simpatico eh ragazzi grazie purtroppo però anche gli altri soggetti fanno la loro parte cioè a vita di Vincolzi Pellini questi comunque ci mettono la loro aggiunta e quindi comunque dovranno pagare le conseguenze di quello che scrivono di quello che minacciano i sconti non se ne fanno a nessuno io ho subito minacce di morte gente che invitava altri soggetti a venire a aspettare sotto la RAI per farmi del male io ho della documentazione spaventosa spaventosa una serie di balle clamorose di auto di auto minacce con l'obiettivo di far credere che io mandassi della gente a minacciare roba farmeticante con chiaramente il proposito di stigare all'odio nei miei confronti di che parliamo cioè ripeto questi sono soggetti che peraltro hanno anche beni immobili in Italia quindi anche se il soggetto non c'è non preoccupatevi che qualcosa a casa ci portiamo eh eh sì quindi e ripeto comunque farsi processare dai reperibile non è una grande idea con capi di imputazione di questa portata cosa fai tutta la vita scappi non puoi più mettere in piedi in Italia vabbè contenti voi e beh perché poi finisce anche un altro giochino quando arriva la condanna no? certe professioni poi non credo che te le lasciano fare più perché guadagni diffamando la gente eh quello è poi non funziona non funziona più così quindi insomma comincia a essere un po' cioè poi la giustizia ci metterà i suoi tempi ma quando arriva è una bordata arriva quando arriva arriva eh sì sì per queste cose è estremamente lunga però che poi lunga in una certa fase poi accelera sono le prime che poi ti dici ma quanto passa poi arriva tutto insieme è molto bello molto interessante eh già carissimi amici direi che questa sera vi abbiamo dato un bel po' di informazioni vi è piaciuta la puntata? bene siamo un po' lenti siamo un po' lenti siamo un po' lenti come bene perfetto grazie beh allora a questo punto vi facciamo i nostri auguri di buon Natale la puntata giovedì prossimo la facciamo quindi c'è ancora una puntata per il 2022 sicuramente se avete piacere di suggerirci qualche tema così stiamo producendo in qualche modo una scaletta anche per il 2023 se vi va di proporci dei casi dei temi da approfondire siamo assolutamente ben felici di ricevere le vostre le vostre indicazioni i vostri suggerimenti ok? assolutamente sì allora buon Natale buon Natale a tutti buon Natale a tutti ma ci vediamo presto ci vediamo prestissimo ciao ciao notte prima sera a casa abbiamo visto veramente di tutto quindi adesso lamentarsi del processo mediatico mi fa un po' sorridere perché abbiamo visto veramente di tutto le lasagne in casa con una grande disponibilità da parte loro quindi ora lamentarsi di questa visibilità mi pare quanto mai tardivo se non altro piuttosto incoerente è un po' sorridere è un po' sorridere